Per la crisi dei negozi di moda che rischiano un tracollo senza precedenti servono misure shock perché noi, afferma il presidente provinciale Federmoda Ragusa, Daniele Russino, abbiamo comprato la merce esposta oggi dieci mesi fa e quindi nel caso della collezione invernale addirittura prima della diffusione della pandemia, a gennaio-febbraio dello scorso anno. Infatti ora tra gennaio e febbraio partiranno gli ordini per la nuova collezione 2021-2022. Ecco perché chiediamo di detassare i magazzini dei negozi di abbigliamento e indennizi equi rapportati alle perdite di fatturato. Il primo passo, secondo Federmoda, sarebbe un contributo in credito d'imposta del 30% delle rimanenze per la vecchia collezione, spiega Russino, sia per la primavera estate scorsa, sia per quello che ci rimarrà di questo inverno, visto che si teme di non riuscire a vendere neanche in saldo. In quanto tra smart working, assenza totale di turisti e con i ristoranti chiusi, quindi senza più occasioni di incontro, chi è che sente la necessità di cambiarsi di acquistare un nuovo vestito? E i dati lo confermano perché i prodotti più acquistati in questo periodo sono stati felpe e tute e inoltre gli acquisti all'anno sono aumentati del 50% a novembre. Noi ci troviamo ad aver acquistato prima, precisa Russino, un prodotto di moda che se non viene venduto è suscettibile a un notevole depreciamento. I negozi di avviamento hanno venduto pochissimo nel corso del lockdown a novembre e a dicembre, ma lo sgambetto finale è stato durante le feste netalizie e adesso c'è molta apprezzione per la stagione dei saldi. Il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, si unisce all'appello lanciato da Russino. È indispensabile, sottolinea Manenti, un indennizzo equo per tutti i negozi di moda rappresentato alle effettive perdite di fatturato perché si parla tanto dei ristori ma della moda non parla nessuno.